Il Tribunale del Riesame di Taranto ha respinto l'eccezione sollevata dalla procura in udienza con la quale si chiedeva ai giudici di decidere esclusivamente sui ricorsi riguardanti gli arresti di otto dirigenti ed ex dirigenti dell'ILVA, aggiornando l'udienza alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo il 15 settembre sul ricorso presentato dall'ILVA contro il sequestro di sei impianti dell'area a caldo. Tra i documenti ci sono anche alcuni accertamenti eseguiti dai tre custodi nominati dal GIP Patrizia Todisco per lo spegnimento degli impianti sequestrati. I tre custodi, tutti ingegneri nominati per occuparsi delle questioni tecnico-operative, hanno preso possesso del loro incarico lunedì 30 luglio. Il CIP ha approvato tra gli interventi di manutenzione straordinaria del territorio le misure per il risanamento ambientale e la riqualificazione di Taranto previste dal protocollo d'intesa firmato il 26 luglio 2012. Grazie a tutti.